Ciao amici di Pavia 1 TV, ecco i nostri appuntamenti dedicati all'informazione. Ogni giorno un'informazione libera, verificata, indipendente e condivisibile senza restrizioni. Alle 8.45 la voce pavese, il punto sul fatto del giorno in provincia di Pavia. A mezzogiorno incontri informativi, rassegna stampa su web e carta stampata, il punto sull'attualità. E poi alle 19 notizie senza mascherina, l'approfondimento al fatto del giorno. E alle ore 20 le Breaking News, tutte le notizie della provincia di Pavia e della regione Lombardia in 3 minuti. Restate con noi!